Allora invito tutti a venire qui a fare una foto tutti con la mascherina Forza senza vergognarci Forza forza dai non vi vergognate dai Alessandro vieni qua Gabriele Forza venite anche voi bambini non vi preoccupate Forza 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 venite gente che in piazza si va Venite un po' più avanti Allora il tiro è dispensato vuole fare una foto Un po' più avanti No no vate molto No è dispensato a me Potete dire anche voi dai non vi vergognate Forza dai Se dai lati potete stringervi un po' per favore Per stare tutti nell'inquadratura Un altro po' per favore Magari qualcuno può mettersi davanti Ok Voi due che siete là dietro se potete venire avanti Ragazzi potete venire qui qua Potete venire avanti In centro perché siete fuori dall'inquadratura L'altro po' ecco perfetto Perfetto state fermi così Fermi Ok grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti